Approdata in Italia nel 1993, Pils Italia ha deciso di festeggiare l'importante traguardo con un evento intitolato 25 anni sulla giusta rotta, The Spirit of Safety, nell'esclusiva location dell'hotel Chateau Montfort di Milano. Sono stati 25 anni dedicati alla ricerca della sicurezza, che rappresenta il filo conduttore del modo di pensare e agire di Pils. E grazie a questo, la filiale italiana è oggi un punto di riferimento assoluto nella fornitura di soluzioni, sistemi e servizi per la sicurezza in campo industriale. Ecco cosa ci hanno detto Suzanne Kunschert, manager partner Pils, nonché nipote del fondatore, e Christian Earle, Sales International Vice President, che sono intervenuti all'evento come relatori d'eccezione e rappresentanza della casa madre. Siamo molto grazie e felici per festeggiare 25 anni di Pils Italia. Siamo molto grazie per la fantastica squadra che abbiamo in Italia, sono veramente le più fantastiche e entusiastiche persone. Siamo molto grazie per i nostri clienti che possiamo lavorare insieme. Quindi oggi è un giorno di festeggiare, è un giorno felice. Pils Italia è un mercato molto importante per noi e siamo davvero grazie per essere qui oggi. Especialmente quando si tratta di nuove tecnologie e il futuro di Pils. Siamo molto attenzione per l'Italia, perché una delle migliori idee che abbiamo per il nostro sviluppo è sempre arrivato da l'Italia. E siamo anche aspettati al futuro, per dare con i nostri clienti e il nostro team italiano le necessità per i nostri prodotti. L'Italia è uno dei mercati più interessanti, sicuramente uno dei mercati più difficili, e questo è quello che ci rende forte. Siamo attenzione per il nostro team in Italia. Grazie per i nostri 25 anni e speriamo per i nostri 25 anni. Grazie. 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 Grazie.